un minuto con padre pio dai luoghi del convento di san giovanni rotondo ci troviamo qui a padre più tv nella sede storica di via denunzio per raccontarvi una storia che c'è stata tramandata da un confratello di padre pio padre francesco napolitano e mette in risalto quanto sia stata importante la presenza di padre pio per quanti si affidavano a lui per tutto quello che riguardava la loro vita per affidare a padre pio i loro acciacchi le loro paure i loro timori e per chiedere delle grazie infatti è la storia di una signora che aveva il marito gravemente malato venne qui d'urgenza san giovanni rotondo chiedendo che fosse guarito per intercessione di padre pio durante la messa partecipò alla santa messa del mattino durante la messa lei cambiava continuamente di posto per cercare di arrivare alla prima fila e consegnare una lettera che aveva scritto di suo pugno a padre pio da pietrilcina ma ogni tentativo risultò vano così questa donna decise di non aspettare neanche nel corridoio per il passaggio di padre pio e quindi non riusciva neanche a mettersi in fila era talmente impaziente che voleva consegnare a tutti i costi questa lettera a padre pio così entrò in sacrestia entrò di sacrestia in sacrestia c'era tantissima gente era molto affollata incominciò a pensare di rinunciare ecco rinunciare a questa possibilità che aveva di poter incontrare padre pio ma tutto ad un tratto padre pio appare sulla soglia del corridoio e tutte le donne gli vanno incontro per baciargli la mano ma padre pio camminando tra la folla si avvicina proprio a questa donna che stava piangendo era letteralmente in lacrime e in una voce che era metà gioiosa e metà severa padre pio le disse cara mia quando la smetti di muoverti continuamente a destra a sinistra poi vai avanti e poi va indietro in chiesa ti sei mossa sempre ma perché continui a ronzarmi all'orecchio me lo ha già chiesto cinque volte ho capito vai a casa e tutto andrà per il meglio sta tranquilla